Ciao amici, oggi vediamo quali sono le spezie che accelerano il metabolismo e fanno perdere peso. Le spezie sono amiche naturali della salute e della linea, ogni spezia ha le sue proprietà e i suoi benefici. Per questo sono state usate come medicina nell'antichità e oggi sono alla base di moltissimi rimedi naturali. Digestive, sgonfianti, tonificanti, rilassanti o energizzanti, a ogni problema la sua spezia. Oggi ci concentreremo sulle spezie dimagranti e bruciagrassi. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco alcune spezie bruciagrassi. 1. Pepe e peperoncino. Il sapore piccante provoca una reazione termogenica che brucia i grassi e accelera il metabolismo. 2. Cardamomo. Aromatico e delicato, è ricco di antiossidanti, diuretico e amico del metabolismo. 3. Zenzero. Il più famoso per attivare il metabolismo grazie al gingerolo, principio attivo, potentissimo. 4. Curcuma. Antiossidante, antinfiammatoria, depurativa del fegato, aiuta il metabolismo dei grassi. 5. Coriandolo. Saporito, aromatico, diuretico, favorisce la digestione delle proteine e dei famigerati grassi. Ma in che modo le spezie ci aiutano a dimagrire? Vediamolo subito. Va detto però che le spezie bruciagrassi da sole non fanno perdere peso. Devono essere integrate con uno stile di vita sano, attività fisica e alimentazione equilibrata. Come dico sempre, una dieta troppo rigida rende il metabolismo più lento, meno capace di bruciare i grassi. Ma anche mangiare troppe poche volte al giorno, troppe volte, squilibra e rallenta il metabolismo. La salute del metabolismo sta nella giusta misura. Le spezie bruciagrassi aiutano a trovare questo equilibrio con i loro principi attivi e la loro azione regolatrice dei processi fisiologici a largo raggio. Mangiarne un po' tutti i giorni, a rotazione, senza esagerare con il sapore piccante, stimola il metabolismo, sazia, depura stomaco, fegato, intestino e reni e riduce la massa grassa. Avete visto amici come perdere peso usando le spezie in cucina? Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la bellezza è facile, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale, avere cura della salute è importante anche per i vostri amici, quindi condividete questo video, può essere utile. Mangia sano e vivi meglio!